Buongiorno e benvenuta ad Annalisa Pola, professore ordinario di metallurgia al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell'Università degli Studi di Brescia. Professoressa, concentriamoci sul settore automotive. In che modo i materiali innovativi contribuiscono oggi alla sostenibilità di questo settore? Innanzitutto è necessario fare una precisazione. Quando si parla di materiali innovativi e di studio sui materiali innovativi per i veicoli si intendono materiali ottimizzati per le specifiche applicazioni, dalle caratteristiche migliorate rispetto a quello che è stato fino ad oggi. E che vuol dire magari materiali già esistenti ma con qualche modifica o nel loro processo di manifattura o nella modalità con cui vengono ottenuti questi materiali così da esaltarne il più possibile le potenzialità. Questo ci permette così di fare pezzi che siano più performanti e magari togliere del materiale dove non serve alleggerendo così il prodotto finale. Sicuramente si punta alla riduzione del peso del veicolo per tutto ciò che questo comporta e questo indipendentemente che si parli di veicolo a carburante convenzionale piuttosto che veicolo elettrico perché da ogni punto di vista questo si traduce in un consumo e quindi in un impatto sull'ambiente. Però i componenti alleggeriti sostituendo un materiale più pesante con un materiale più leggero non risolvono il problema se il materiale non è sufficientemente resistente e performante. Quindi dobbiamo studiare materiali che siano anche meccanicamente resistenti che garantiscono quelli che sono i requisiti di prestazioni. E ci serve poi realizzare prodotti che in tutta la loro catena di produzione siano in effetti dei materiali più green possibile. Quindi da come viene ottenuto il materiale per esempio il materiale da riciclo è sicuramente impatta di meno sull'ambiente rispetto a un metallo ottenuto dal minerale fino a quando raggiunge il fine della sua vita magari valutando anche la possibilità di poterlo riciclare o riutilizzare. È quindi essenziale che tutti i parametri di produzione del componente siano accuratamente definiti così da sfruttare il più possibile le caratteristiche che questo materiale ci può offrire. E allora in questo modo sì siamo in grado di alleggerire, di garantire sicurezza del veicolo e impattare di meno sull'ambiente e raggiungere quindi gli obiettivi di una mobilità più sostenibile. Lo SPOC 11 del centro Most finanziato dal PNRR guarda proprio a questi materiali, che tecnologie si sviluppano, che contributo arriva allora dall'Ateneo di Brescia in particolare? All'interno di questo SPOC di cui fanno parte diversi gruppi di ricerca quello che stiamo studiando è l'implementazione di processi produttivi che siano più efficienti, meno impattanti sull'ambiente e adatti anche alla realizzazione di componenti che siano definiti da un punto di vista geometrico in modo ottimale per il prodotto. Diciamo che l'additive manufacturing, per fare un esempio, è una delle tematiche sicuramente di grandissimo interesse perché ci permette una libertà di design che nessun'altra tecnologia ci consente. Ma non è solo quello, si stanno studiando anche tecniche di manifattura più convenzionali dalle lamiere, ai getti di fonderia, piuttosto che metodi di deformazione plastica. Si stanno facendo studi sul life cycle assessment dei prodotti stessi per quella catena di produzione che dicevamo prima, così come si stanno anche sviluppando modelli basati sui dati sperimentali raccolti che ci permettono di fare delle previsioni sulle prestazioni e sul design del componente. Il team di Brescia, che ci tengo a sottolineare, è costituito dal 50% di donne, coinvolge docenti di diversi settori, dalla metallurgia ai materiali polimerici alla costruzione di macchine, piuttosto che tecnologie autoveicoli e coinvolge otto giovani che sono stati appositamente assunti per questo progetto, tra dottorandi, assegnisti e borsisti di ricerca, proprio perché l'obiettivo anche di questi centri nazionali è promuovere la crescita dei giovani, il ricambio generazionale, formare nuovi tecnici esperti del settore così che poi questo centro possa vivere successivamente ai tre anni del finanziamento basandosi proprio su queste competenze acquisite. Uno dei focus principali è proprio legato alle caratteristiche dei componenti ottenuti con leghe di alluminio ottenute dal riciclo del materiale. Stiamo facendo studi sull'additive manufacturing, sulla caratterizzazione delle strutture sia metalliche che polimeriche, sullo sviluppo di metodi di caratterizzazione anche nuovi per materiali polimerici, così come compositi e matrice polimerica. Stiamo facendo anche degli studi legati alla definizione di modelli per la dinamica del veicolo grazie a dati presi poi acquisiti attraverso campagne di prova e anche alla valutazione dell'impatto sull'aria. Quali progetti avete già portato avanti su questo tema come università grazie alla sinergia con le imprese? Devo ammettere che Brescia era già da anni attiva sui temi legati all'automotive e alla sostenibilità. Compice sicuramente un territorio che ci aiuta perché Brescia è ricchissima di aziende che lavorano per questo settore. Collaboriamo con le aziende attraverso progetti di ricerca finanziati e quindi finanziati da bandi competitivi al di là del PNRR piuttosto che con contratti di ricerca quindi su temi che sono di interesse delle aziende o addirittura finanziamento di dottorati di ricerca, semi di ricerca o anche le sole tesi di laurea e su questo noi lavoriamo tantissimo. Giusto per fare qualche esempio degli ultimissimi anni chiamiamolo pre centro nazionale abbiamo condotto uno studio che è durato per tre anni attraverso la collaborazione con un'azienda locale di un finanziamento di regione Lombardia e Cariplo su cerchi in lega camion in alluminio quindi con una nuova lega tecnica di realizzazione che permetteva di alliggerire così la struttura. Abbiamo fatto degli studi legati all'utilizzo di leghe da riciclo valutando le prestazioni facendo confronti diretti fra la lega da recupero e la lega convenzionale anche questo in collaborazione con un'azienda locale. Uno degli altri studi che abbiamo condotto in collaborazione con l'azienda quello che ha riguardato la realizzazione o lo studio di materiali più adatti per la produzione di dischi freno a basso impatto ambientale ovvero più resistenti all'usura in modo tale che in frenata ci fosse un minor rilascio di particolato e questo è stato fatto studiando quale fosse la composizione chimica più adatta della lega da utilizzare per la realizzazione del disco freno così come valutare magari delle modifiche superficiali di un disco freno già esistente in ottica di miglioramento della sua resistenza all'usura. È stato fatto uno studio molto interessante qualche anno fa sulla valutazione del ciclo di vita quello definito cradle to grave e della sostenibilità di un componente automotive sostituito con materiale alleggerito valutando negli aspetti di sicurezza di durata di resistenza l'impatto ambientale in termini anche di emissioni durante l'esercizio probabilmente anche per questo che siano stati coinvolti proprio in questo SPOC per studiare materiali sull'alleggerimento di sicuro il vantaggio poi di lavorare all'interno di un progetto così grande che coinvolge così tanti atenei ci permette di fare sinergia di confrontarci di lavorare insieme su tematiche di interesse comune. In definitiva come si collocano l'Italia in particolare la Lombardia per quel che riguarda la ricerca innovativa in questo settore automotive? Io credo che l'Italia in particolare la Lombardia anche grazie al tessuto industriale che la caratterizza occupino una posizione di assoluto rilievo nell'ambito della mobilità sostenibile, dell'innovazione dei materiali e questo a prescindere come si diceva prima della tipologia di carburante che utilizza il veicolo. Anzi proprio in quest'ottica la ricerca che si sta conducendo, parlo del mio ateneo ma anche altri atenei così come a livello di ricerca industriale mira proprio a tutti questi aspetti quindi non solo a un cambiamento completo quello diciamo come si cita spesso della transizione energetica, il passaggio a un veicolo elettrico addirittura quando se ci sarà l'idrogeno ma nel frattempo dobbiamo comunque migliorare e devo dire che quello che stiamo facendo in collaborazione anche con le aziende all'interno o anche al di fuori del progetto di Spocundici mira proprio a questo, bisogna migliorarne la qualità e ridurne l'impatto ambientale. Un po' le università hanno imparato a lavorare con le aziende o forse le aziende hanno imparato un po' di più a collaborare con le università per fare sinergia e perché con la ricerca e con l'innovazione con le conoscenze che vengono però da un po' tutti e due i lati e quindi trovare il punto di incontro che permette di raggiungere l'obiettivo credo sia fondamentale e secondo me progetti come questo e le collaborazioni che ormai si sono create fra l'accademia e l'industria mirano proprio a raggiungere questi obiettivi e a migliorare anche il know-how da tutte e due le parti oserei dire non solo a livello industriale.